Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio, così che chiunque avrà fede in lui non verirà ma vivrà in eterno. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info che tengono il genere umano incatenato a fantasie e assurdità che hanno generato e giustificato tanta fordia e distruzione. La religione è pericolosa. Ecco cosa c'era all'interno del guanto. Sono l'arve di una mosca, la grande sarcofaga. Si nutre esclusivamente di cadaveri o di resti umani. La religione è pericolosa. La religione è pericolosa. La religione è pericolosa. Quando è eliminato l'impossibile, quello che rimane per quanto improbabile è la verità. Ascolta, le insegnate se ne vanno ogni sera a quest'ora. Te l'avevo detto. Le senti? Vanno via. Se ti passi, però, non escono dalla scuola. Come? Non è uscito a sinistra. Non è uscito a sinistra. No, non è uscito a sinistra. Ma che c'è più che c'è più? Che cos'è? Non lo voglio dire, eh? Non lo voglio dire, eh? Non lo voglio dire, eh? Ci creiamo la nostra ideologia, una laqualezza. Seguire a te stessi, cioè non andare contro natura. E basta, non farti comandare da nessun Dio creato da chissà quale entità. Secondo me, se il bene o male è la stessa cosa, l'uno parte dell'altra. Quindi Dio e Stata, secondo me sono una sola e grande entità. Semplicemente che ciò che prendiamo di negativo da Dio è Stata, ma ciò che prendiamo di Stata, quindi così Dio è Dio. Mentre i satanisti dicono, fai ciò che vuoi, i cristiani invece dicono, ama che fai ciò che vuoi. Il Gesù che noi conosciamo è il Meschizedek, è il Cristo cosmico, è sempre venuto. Sulla Terra, tutte le volte che ce n'è stato bisogno, dopo Aslanti, dopo il diluvio, a riportare la civiltà per non farci ripartire una volta da milioni di anni, di anni prima, la realtà della pietra, eccetera. C'è chi l'ha chiamato Gilgamesh, chi l'ha chiamato Osiride. Gli indiani lo chiamano Krishna. I romani lo chiamavano, i persiani lo chiamavano Mitra, che i romani hanno adorato per tanto e tanto tempo. È quello che sta tornando. E infatti così mi dicono. Sto tornando. Pubblica il mio testamento. Non aveva mai fatto del male a nessuno. E ora vi lascio un nuovo comandamento. Che vi amiate l'un l'altro come vi ho amato io. C'è chi l'ha chiamato il nostro corpo di questo corpo e mettere in un nuovo corpo? Sì. Sì, ho capito. C'è chi l'ha chiamato. Che forse questa gente era collusa con i servizi segreti. C'è chi l'ha chiamato. C'è chi l'ha chiamato. C'è chi l'ha chiamato. ... ... ... ... La mia vita di tutto il mondo, ma il nome di Jesus Christ. Grazie per la visione! Grazie per la visione!